Grande fratello VIP, il ritorno di Adriana Volpe. Adriana Volpe tornerà al Grande fratello VIP. Succederà nella prossima diretta del reality. La conduttrice trentina ed ex opinionista del GF VIP, entrerà nella casa di Cinecittà per fare una sorpresa a Giovanni Ciacci. I due sono molto amici, e hanno lavorato insieme nel programma ogni mattina, in onda su TV8. In una recente intervista, ancor prima che iniziasse il reality di Signorini, Adriana aveva parlato proprio dell'eventualità di poter entrare nella casa, per fare una sorpresa a Giovanni. In quell'occasione, aveva parlato del loro rapporto di amicizia. Amicizia fatta di confronto, e dialogo. La Volpe conosce bene, sia le fragilità, che la forza dell'amico. Ed ecco che ora, sembra essere giunto il momento di fare una bella sorpresa al nostro Giovanni. Lo ha rivelato TV Blog, secondo cui, il ritorno di Adriana Volpe, avrà anche un altro scopo. Secondo quanto riportato dal portale, la Volpe avrà pure la possibilità di chiarirsi con l'ex collega Sonia Bruganelli. Le due, nella scorsa edizione del GF VIP, si sono scontrate più volte. Non solo, si sono punzecchiate, e si sono mandate frecciatine assai velenose, anche a telecamere spente. Il tutto, sia via social, che attraverso interviste rilasciate ai vari rotocalchi di Gossip. Ovviamente, il buon Alfonso non si lascerà sfuggire l'occasione per mettere Sonia e Adriana a confronto. Un faccia a faccia che si preannuncia infuocato. Insomma, una sorta di resa dei conti tra le opinioniste dello scorso anno, che di certo non si amano, e non cominceranno adesso a farlo. Sembra invece che sia scoppiata la pace, tra Adriana e Alfonso Signorini, dopo alcune incomprensioni. In particolare, Adriana non aveva preso bene il fatto di non essere stata riconfermata come opinionista. Ruolo che, invece, è stato riaffidato alla sua rivale Sonia Bruganelli. Stando alle indiscrezioni, la mancata riconferma di Adriana è dipesa in buona parte da Signorini, il quale ha ammesso di non aver apprezzato i continui litigi tra la Volpe e la Bruganelli, nel corso della scorsa edizione. Non solo, ciò che aveva agitato ancora di più le acque, era stata la proposta di Signorini di far rientrare Adriana al GF VIP come concorrente. Offerta che la Volpe non poteva di certo accettare, visto che ormai è una mamma single, e non si può permettere di stare a lungo lontana dalla figlia Giselle. Ebbene, le incomprensioni con Signorini sembrano essere acqua passata, e ora la nostra Adriana è felice di fare ritorno al GF VIP come ospite. In attesa di vederla all'opera, in questa nuova puntata del reality, verrà decretato il primo preferito del pubblico. In nomination ci sono, Nikita Pelizzon, Antonella Fiordelisi, Marco Bellavia, Daniele Dal Moro, Sofia Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria. Chi otterrà più voti sarà il primo immune di questa edizione. Secondo voi chi la spunterà? Contenti di rivedere Adriana Volpe? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Qui la spune. Informazioni di rivedere. Per ricevere gli aggiornamenti. Per ricevere gli aggiornamenti. Quindi ci sono � casi citi, ma investiamo. Chiedere cosa? Questa leave viaницы. Grazie a tutti. Speration esistencia.